Ciao a tutti, vediamo in questo video 8 motivi per cui sei infelice. In questo video voglio presentarti 8 motivi per cui sei infelice e quindi capendo i motivi per il quale sei infelice poter passare dall'infelicità alla felicità. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ricordo inoltre che sul canale ti potrai abbonare e abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo dunque al tema 8 motivi per cui sei infelice. Allora, primo motivo è che ti preoccupi di tutto. Per carità, dobbiamo preoccuparci delle cose che possiamo tenere sotto controllo. Un problema, se è risolvibile, non è un problema. Cioè nel senso che si risolve e si è finita la situazione, quindi non deve generarci preoccupazioni. Un problema, se non è risolvibile, è un dato di fatto, non è un problema. E quindi se non è risolvibile, dobbiamo semplicemente accettare la situazione e non preoccuparci nel più di tanto. Perché quello che non possiamo modificare, per forza, in qualche modo deve essere accettato. Il secondo punto è che ti compare in modo fallimentare con le altre persone. Il confronto fallimentare con le altre persone non è mai utile. Il confronto con gli altri può essere utile se ti serve per trasformarti, per migliorarti, per ottenere qualcosa di positivo, per cambiare positivamente la tua vita, per trasformare positivamente la tua vita. Allora ha un senso, diciamo, la trasformazione, ha un senso il cambiamento, perché il confronto con gli altri a quel punto lì diventa un qualcosa di utile, diventa qualcosa che ti consente di migliorare te stesso, o di migliorare te stesso e di ottenere, di effettuare una trasformazione al positivo della tua vita. E questo è quindi un dato di fatto fondamentale, un qualcosa di importante, di basilare. Altrimenti non serve assolutamente a nulla. È solamente a quel punto lì un qualcosa di estremamente negativo. Terzo motivo per cui sei sempre infelice è che hai dimenticato di essere grato, hai dimenticato di sviluppare gratitudine. La gratitudine è un qualcosa di fondamentale. Senza gratitudine noi non otteniamo nulla. Senza gratitudine non riusciamo a raggiungere nessun obiettivo. Essere grati, imparare ad essere grati è fondamentale nella nostra vita perché ci permette di fare un focus, di concentrarci su quello che abbiamo, di portare avanti la nostra vita in modo positivo, di portare avanti la nostra vita attraverso dei momenti estremamente positivi, estremamente, diciamo, importanti. Quindi dimenticarsi di essere grati è un qualcosa che non funziona, che non va. Quarto punto è il pessimismo. Se sei pessimista, se sei, diciamo, vedrai, cercherai le soluzioni, anziché cercare le soluzioni ai problemi, vedrai problemi nelle soluzioni. La differenza tra il pessimista e l'ottimista è quello. Il pessimista vede i problemi nelle soluzioni. L'ottimista vede le soluzioni ai problemi. Tra l'altro c'è a dire un'altra cosa fondamentale, che il pessimista prende praticamente, come dire, vive male anche tra una fregatura e l'altra. Tra due eventi negativi e l'altri continuano a vivere male. L'ottimista tra un evento negativo e l'altro vive comunque bene. Quindi cerca di sviluppare l'ottimismo perché è fondamentale. Quinto punto è dovuto al fatto che sei circondato da persone negative. Ecco, quindi metti, scrivi sull'ingresso di casa tua, vietato l'ingresso ai tristi, vietato l'ingresso alle persone tristi. Le persone tristi devi togliertele dai piedi. Non hanno nessun significato, non hanno nessuna valenza positiva. Vividi solo le cose belle, le cose felici e impara a sviluppare entusiasmo. L'entusiasmo è fondamentale del contrario della tristezza. Entusiasmo è in teosiasmos essere in contatto con la divinità dentro di noi. Quindi questo è importante. Sviluppare entusiasmo direi che è fondamentale. Sesto motivo per cui sei sempre infelice è che conservi il rancore. Cioè la rabbia la trasformi piano piano in rancore. Quando la rabbia diventa rancore inizia a sedimentarsi. Il rancore è come un qualcosa di corrosivo che tu hai dentro di te e che continua a lavorare al tuo interno e ti genera inesorabilmente, inevitabilmente ti genera una sensazione proprio di, possiamo dire, di tristezza, di infelicità. Il rancore porta male, ti fa stare male e quindi è molto importante eliminarlo, al limite sfogando la rabbia, cercando anche, che ne so, facendo sport, facendo qualcosa. Ma mai far sì che la rabbia sedimenti e diventi rancore. Settimo motivo per cui sei sempre infelice o sei spesso infelice è che hai rinunciato al controllo della tua vita. Cioè hai delegato ad altri il controllo, tra virgolette, della tua vita. Il fatto che tu devi essere in grado di gestire la tua vita ed evitare che lo facciano altri. Non puoi delegare agli altri di controllare, di dirti cosa è giusto e cosa non è giusto per te. Fottite di quello che ti dicono gli altri e fai quello che ti senti di fare, quello che è in armonia profonda con te stesso. E poi, punto 8, ti innamori delle persone sbagliate. Ecco, anche questo è una qualcosa di fondamentale. Bisogna imparare a scartare le persone che ci generano sofferenza, le persone che ci generano tristezza. Perché queste persone non ci porteranno null'altro che infelicità. Ecco, questi sono i principali 8 motivi per cui sei infelice. Quindi cerca di fare esattamente il contrario per passare da uno stato di infelicità a uno stato di felicità. Tu ce la puoi fare. Se valorizzi te stessa o te stesso. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo che sul canale disponibile l'abbonamento, abbonandoti, potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande in apposite live. Ciao a tutti.